Dopo due anni di lockdown ritorniamo dedicando ai 102 anni della nascita di Gianni Rodari questa mostra del libro che è la 43esima edizione, quindi come si vede è una roba tosta, una forte collaborazione anche con le scuole di Pesaro Urbino, i rapporti con i territori, con gli altri comuni, in una location come si dice oggi bellissima perché è nel Palafoglia a Bottega di Vallefoglia in una struttura realizzata in legno da Subissati, per una settimana, dieci giorni, insomma saranno tante le persone che visiteranno. Sono messaggi anche importanti tipo la pace, la solidarietà, la comunità, tutti i messaggi che Rodari dava alle persone più adulte ma soprattutto la lettura dei libri, i bambini di questi tempi e un'apertura già dal manifesto, da Vedeti Colori, questo linguaggio innovativo di felicità, di vivacità, di vita normale che sarà questa edizione della mostra del libro che oramai ha assunto una caratteristica, che è una caratteristica marchigiana del centro Italia. C'è una vivacità, una ripresa di vita davvero delle nuove generazioni, dei ragazzi, delle loro famiglie che sono i protagonisti del futuro di questo territorio. È un messaggio forte a leggere, a studiare, ad essere protagonisti del futuro di questo pianeta e anche di questo territorio, di questa città, di questa vallata. Per noi è importante la collaborazione con le scuole, le scuole locali, siamo onorati di ospitare anche la scuola del Libro di Urbino e l'Istituto Mengaroni di Pesaro. Ci saranno la mattina le scolaresche che faranno visita alla mostra e il pomeriggio invece ingresso libero e ci saranno tanti laboratori. C'è un programma che potete vedere, ben dettagliato e intenso, a partire da sabato prossimo, il 7 alle ore 16, ci sarà inaugurazione e invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa di cui siamo orgogliosi.